Ciao e benvenuto su questo video. In questo video verrà trattato il rapporto tra mente e realtà, che attualmente non è così scontato come si potrebbe supporre a prima vista. Le modalità tramite le quali si realizza tale relazione, e le forme che essa assume, nascondono interrogativi e ambiguità che hanno interessato i principali pensatori dell'epoca moderna e contemporanea, impegnando vasti settori della riflessione filosofica e scientifica. Il video indaga tali problematiche mostrando le criticità connesse ad una tale visione fin dalle sue origini, per seguirne poi gli sviluppi nell'agnoseologia successiva. Il XX secolo è stato un secolo straordinario in cui l'uomo è stato testimone di importanti rivoluzioni concettuali, in fisica forse la più importante è stata la meccanica quantistica. Oltre agli importanti risultati che ha data nel campo della fisica delle particelle, essa ha scosso profondamente il concetto di realtà che si aveva avuto fino agli inizi del Novecento. La meccanica quantistica è stata decisiva per una nuova comprensione del mondo che ci circonda. È giunta a sconvolgere le certezze basate sulla fisica di Newton e sugli sviluppi teorici successivi, cioè che c'è un mondo oggettivo, completamente indipendente da noi e dalla nostra mente, che procede e può senza il nostro apporto e dalla quale realtà ci si riferiva con la ricerca, costruendo teorie in cui l'osservatore non aveva nessun ruolo e quindi presunte oggettive. La meccanica quantistica, all'inizio del Novecento, ha investito con veemenza rivoluzionaria tutto questo, compreso la logica del senso comune. Niente, nella nostra esperienza quotidiana, ci permette di cogliere gli strani fenomeni del mondo subatomico, dove gli oggetti che lo compongono appaiono come onde o particelle, dove gli elettroni perdono la loro identità e si modificano a seconda se sono osservati o meno, dove un singolo fotone talvolta sembra essere in due luoghi diversi contemporaneamente. Nella meccanica quantistica una particella, un elettrone o un fotone, non esiste in un punto preciso dello spazio, ma conduce una sorta di esistenza solo potenziale, dispersa in tutto lo spazio con una distribuzione di probabilità, ed acquista una posizione precisa solo in corrispondenza di una misurazione. Ma allora, se è vero che il mondo dei quanti è il livello sottostante il nostro mondo macroscopico, come possono le classiche certezze della fisica classica, che conserva per intero la sua validità alla scala della nostra esperienza, derivare dall'indeterminazione che domina il mondo dei quanti? Dov'è il punto di connessione? L'avvio di questa rivoluzione lo si è avuto nel 1801 con l'esperimento della doppia fenditura di Thomas Young. Fin dal 600 fu ritenuta valida per la luce la teoria corpuscolare di Newton, più che altro per la notevole autorità di Newton in quanto il suo contemporaneo Christian Huygens aveva già formulato una teoria ondulatoria della luce. All'inizio dell'Ottocento appariva invece sempre più convincente l'idea che la luce fosse composta da onde e per questa ragione nel 1801 Young concepì un esperimento, basato su una sorgente luminosa che investe due fenditure e superato questo due fenditure incide su uno schermo fotosensibile. La figura di interferenza che compariva sullo schermo metteva in evidenza in maniera inequivocabile la natura ondulatoria della luce. I successivi sviluppi teorici, dovuti essenzialmente a Maxwell con la formulazione delle equazioni che descrivono la luce come onda elettromagnetica, sembravano aver definitivamente chiuso la questione. Invece no, in quanto in certe situazioni, come messo in evidenza nel 1905 da Einstein nell'effetto fotoelettrico, la luce si comportava come fosse composta da particelle, cioè pacchetti di energia elettromagnetica quantizzata, che vennero chiamati fotoni. Gli esperimenti di Millikan del 1916 dimostrarono la correttezza dell'ipotesi fotonica, che fu poi definitivamente confermata dalla scoperta dell'effetto Compton nel 1922. Questo creò nella fisica una situazione problematica poiché la luce sembrava presentare una sorta di dualismo, apparendo come onda o come corpuscolo in esperimenti diversi. La difficoltà venne in qualche modo generalizzata nel 1924 da De Broglie, con l'ipotesi che tutta la materia manifestasse tale dualismo, aprendo così le porte al superamento del problema con lo sviluppo della meccanica quantistica. La prova sperimentale di questo strano comportamento venne ottenuta nel 1927 da De Vison e Germer, che osservarono figure di diffrazione facendo attraversare un cristallo di nickel da un fascio di elettroni. Scaturiva da ciò la possibilità di utilizzare fasci di particelle per eseguire esperimenti di interferenza con due fenditure, come Yang aveva fatto con la luce. Usando elettroni con il sistema delle due fenditure si averifica la situazione paradossale che se si mandano degli elettroni sulle due fenditure e non si osserva, cioè non si illumina le due fenditure per vedere quale fenditura attraversano gli elettroni, l'elettrone si propaga come un'onda e sullo schermo si crea una figura di interferenza, che è tipica dei fenomeni ondulatori ma, se si fa l'esperimento which way, quale via, cioè si usa un rilevatore sulle due fenditure per vedere da quale fenditura passano i singoli elettroni, l'elettrone si propagerà come una particella e non più come un'onda ed il fenomeno di interferenza sullo schermo sparisce e compaiono sullo schermo due bande in corrispondenza delle fenditure. Come sarebbe se nel mondo macroscopico si usassero proiettili di un'arma sparati su uno schermo attraverso due fenditure. Cioè se gli elettroni vengono osservati si comportano come particelle, mentre se non vengono osservati si comportano come onde. La differenza sostanziale tra onde e particella in questo esperimento è che il corpuscolo singolo passa attraverso una e una sola fenditura, mentre l'onda si propaga attraverso entrambe le fenditure contemporaneamente. Nel caso del singolo elettrone, dunque, la vera domanda è. L'elettrone, oggetto subatomico senza una struttura, passa attraverso una sola fenditura, o in qualche modo passa attraverso entrambe replicando così il comportamento delle onde. È questo uno dei paradossi più affascinanti della meccanica quantistica, ossia il fatto che determinati fenomeni non possano essere spiegati con le leggi della fisica classica che siamo abituati ad osservare nel nostro mondo macroscopico. L'esperimento Witchway mostra un risultato controintuitivo per le menti non abituate ad avere a che fare con la meccanica quantistica, e che cioè se non si osserva un elettrone esso si comporta come un'onda mentre usando i rilevatori, l'elettrone perde la sua natura ondulatoria e si comporta come una particella. L'unica differenza era la presenza di un dispositivo di osservazione. Come se l'elettrone, una volta che viene osservato, decidesse spontaneamente di cambiare la propria natura da onda a particella. L'interferometria con la tecnica delle due fenditure per le particelle col tempo ha raggiunto livelli di eccellenza ed il dualismo onda-particella è stato verificato su una ampia gamma di particelle, comprese molecole di fullerene complesse. Un altro caso che mette fortemente in discussione il rapporto tra osservatore e la realtà è il problema della misura, dove per problema della misura si intende il problema di come, o se, si verifica il collasso della funzione d'onda, dove la funzione d'onda è la soluzione dell'equazione di Schrödinger, che è un'ampiezza di probabilità, cioè, il suo modulo al quadrato rappresenta la densità di probabilità sulle posizioni di una particella in un certo intervallo di tempo. Questa funzione d'onda composta da infiniti stati sovrapposti che permeano l'intero spazio, durante la misura si concentra istantaneamente in un unico punto per trasformarsi nella particella osservata. Ad esempio per un elettrone di un atomo, si può solo ipotizzare che è localizzato intorno al nucleo. La meccanica quantistica ci indica la probabilità che, effettuando una misura, l'elettrone si trovi in un certo punto, ma anche punti molto lontani dal nucleo hanno una probabilità diversa da zero, anche se piccola, che si possa trovare l'elettrone. Prima della misura, lo stato dell'elettrone è descritto dall'insieme di tutti i possibili risultati, si parla quindi di sovrapposizione di infiniti stati quantistici, a cui corrispondono tutti i punti dello spazio, e parlare di dove era, quale velocità aveva o di altre proprietà dell'elettrone prima della misura non ha nessun senso. Nel momento della misura, l'elettrone collassa in un singolo stato di cui la misura ne rileva una sua proprietà. Questo principio ha un risvolto concettuale importante. In un certo senso, con i loro strumenti di misura, gli scienziati intervengono nella creazione della realtà che stanno studiando. L'incapacità di osservare direttamente tale collasso ha dato origine a diverse interpretazioni della meccanica quantistica e pone una serie di domande cruciali alle quali ciascuna interpretazione deve rispondere. Quella dell'impatto del processo di osservazione e misurazione sui comportamenti del mondo è uno dei punti fondamentali della meccanica quantistica, riassumibile nel noto principio di indeterminazione di Heisenberg, che dice che non è possibile misurare con precisione data tutte le proprietà della materia contemporaneamente. Quanto più precisamente si misura una variabile ad esempio la posizione, tanto più indefinita diventa la misura di altre variabili ad esempio la direzione o la velocità. Da tutto questo si può desumere che la meccanica quantistica, attraverso i suoi risultati teorici e sperimentali, ci suggerisce che la realtà che avvertiamo dipende da come la rileviamo. In altre parole, è possibile che la realtà non esista finché non la si osserva. Si potrebbe dunque dire che l'osservatore influenza ciò che osserva. Tale ipotesi sembra mettere in discussione la natura della realtà in cui crediamo di muoverci, gli esperimenti della meccanica quantistica dimostrano in modo inconfutabile che l'osservazione modifica la realtà osservata, facendo comparire dal nulla la materia, là dove si posava l'attenzione dell'osservatore. La presenza di numerose bande chiare presenti sulle lastre fotosensibili, tipiche dei fenomeni di interferenza, dimostrava che la materia, quando non osservata, si presenta come un'impalpabile onda. Un'onda invece di un corpuscolo particellare. Ad una più attenta analisi, in particolare, per l'interpretazione statistica della funzione d'onda da parte di Max Born, si scoprì che quell'onda rappresentava semplicemente la probabilità di trovare la particella in un certo punto dello spazio-tempo. Niente di fisico o di tangibile, quindi, solo una probabilità. Da ciò la teoria che la particella quando non viene osservata è dappertutto, e nello stesso tempo da nessuna parte. Di fatto quella particella non esiste quando non è osservata, perché al suo posto c'è qualcosa di totalmente immateriale, senza confini, che permea l'intero spazio. C'è solo una probabilità, qualcosa che non esiste in questo mondo materiale, se non come idea, o concetto, espresso attraverso formule matematiche. C'è solo l'informazione della potenziale esistenza di una particella. Gli esperimenti di misure quantistiche ci hanno quindi dimostrato che una particella può apparire solo come il risultato del collasso della funzione d'onda che la descrive. Così ci si rese conto che la fisica quantistica aveva finalmente alzato il velo sulla realtà delle cose, rivelando uno strano mondo composto da due diversi livelli. Un primo livello, che potremmo definire immateriale, dove non esiste né tempo né spazio, fatto solo di onde di probabilità. Un livello dove esiste qualsiasi cosa in forma potenziale ed inespressa. Il secondo livello invece è quello a cui appartengono le cose materiali. Il mondo cioè che possiamo sperimentare con i cinque sensi, dove tutto avviene nel tempo e nello spazio-tempo. Le onde del primo livello esprimono il concetto, o l'idea delle cose che poi appaiono al secondo livello. Fu a tutti chiaro che, affinché una particella possa comparire, deve necessariamente esistere in precedenza un'onda che la descrive. Nulla può esistere quindi al secondo livello, quello materiale, senza che al primo livello esiste una probabilità della sua esistenza. Un oggetto del primo livello che esiste sotto forma di onda si manifesta nel secondo livello materiale solo con l'osservazione. La possibilità che il mondo che vediamo e sentiamo sia prodotto dalla nostra percezione di esso è, per molti, un dibattito tanto complicato quanto interessante. Sono in gioco molte credenze e postulati scientifici classici. Si cela una filosofia sorprendente dietro queste osservazioni scientifiche. I fenomeni fisici si manifestano in diversi modi a seconda dell'atto del misurare tramite cui si osservano, detto in meccanica quantistica principio di complementarità. E fino a quando questi fenomeni osserviamo, sembrano rimanere in una sorta di stato di indefinitezza che sfida la logica così come gli esseri umani la concepiscono. In questo stato di indefinitezza quantistica, i fenomeni fisici sono e non sono, si trovano dappertutto e da nessuna parte, sono onde e particelle. In altre parole, non esistono e sono tutto allo stesso tempo. Questa visione così tipica della fisica quantistica ha avuto molte dimostrazioni sperimentali in diversi ambiti. Il principio rivoluzionario della concezione della realtà corrisponderebbe, in altre parole, col fatto che in qualche modo la realtà non esiste finché non la misuriamo. Almeno la realtà su scala subatomica che, sebbene minuscola, è il livello minimo a cui si riduce la materia che compone tutte le cose nell'universo. Un inquadramento di questo stato di cose è sintetizzato perfettamente nell'interpretazione relazionale che nel 1996 formulò Carlo Rovelli, secondo la quale, la meccanica quantistica descrive il modo in cui i sistemi fisici si determinano in rapporto ad altri sistemi fisici. Le proprietà di tali sistemi non sono intrinseche, bensì i valori specifici di una certa variabile fisica emergono soltanto in virtù dell'interazione con altri sistemi fisici. Cioè gli oggetti sono caratterizzati dal modo in cui interagiscono? Tutto è basato sull'interazione. Non ci sono proprietà al di fuori delle interazioni. Questo implica, tra l'altro, che una stessa sequenza di eventi può essere definita ed interpretata in molti modi. Le proprietà degli oggetti esistono solo nel momento delle interazioni e possono essere reali rispetto a un oggetto ma non rispetto a un altro. Ad esempio se la particella A interagisce con la particella B allora alcune proprietà della particella A esistono per la particella B e viceversa. Mentre se una particella C non interagisce con A e B, per essa le particelle A e B non esistono. Spiegare questo funzionamento sembra estremamente complesso e al momento altamente speculativo. Queste difficoltà hanno portato anche a delle derive come la mistica quantistica, che generalmente viene considerata pseudoscienza nuage ma che ha visto contributi anche di eminenti scienziati come il fisico e matematico Roger Penrose, premio Nobel nel 2020, che insieme al neurofisiologo Stuart Ameroff. Negli anni 90, usando la fisica quantistica hanno cercato di spiegare la coscienza umana. Partendo dal fatto che la mente umana è capace di risolvere problemi cosiddetti indecidibili, vale a dire problemi che non possono essere risolti attraverso procedimenti algoritmici che sono tipici dei computer. Nel tentativo di comprendere cosa rendeva il cervello umano così diverso da un computer, Penrose e Ameroff suggerirono che il segreto peculiare della coscienza umana si cela nella meccanica quantistica ed in particolare nel problema irrisolto della misura. L'indeterminazione quantistica messa in luce nel teorema di John Bell infatti rende indecidibile lo stato di un sistema quantistico finché non si verifica la sua riduzione, ovvero la manifestazione del collasso d'onda. Partendo da questi presupposti Penrose e Ameroff hanno messo a punto il modello della mente Ork-Or che è una teoria controversa che postula che la coscienza ha origine a livello quantistico all'interno dei neuroni, piuttosto che un prodotto fisico-chimico delle connessioni tra neuroni. Per altri scienziati e filosofi la conservazione dell'informazione quantistica e l'ipotesi quantistica della coscienza implicherebbe anche l'esistenza dell'anima. Nonostante tutto, sembra che la fisica quantistica, supportata dalla verifica e validazione delle sue ipotesi in numerosissimi esperimenti, stia finalmente aprendo la porta a un nuovo modo di intendere la nostra coscienza, la realtà e il mondo. Almeno, e per ora e per via ipotetica, la scienza sembra smantellare il DEA secondo la quale vi sarebbe una realtà oggettiva preesistente. Infine per concludere, tutto questo, insieme ad altri fenomeni quantistici quali l'effetto tunnel o l'entanglement quantistico, ha dato luogo ad usi impropri, se non fraudolenti, della meccanica quantistica, come gli accostamenti bislacchi ed incoerenti in cui con la parola quantico o quantistico si è voluto dare un'improbabile solidità, un'inverosimile credibilità e pseudospiegazioni a fenomeni del tutto privi di fondamento. In questi ambienti pseudoscientifici, magicamente, grazie alla meccanica quantistica diventano possibili e per di più spiegabili la telepatia, la telecinesi, le esperienze post-mortem, l'autoguarigione guidata dal pensiero positivo, i viaggi nel tempo, i fenomeni paranormali e chi più ne ha più ne metta. Cioè la meccanica quantistica, in quanto astratta, controintuitiva, lontana dal senso comune, anche se è la teoria più precisa e più verificata che l'umanità abbia mai avuto, è stata usata anche come strumento di marketing per spiegare e vendere fenomeni di ogni genere anche a scopo di lucro o di sfruttamento come nelle sette. Questo è tutto, spero che il video ti sia piaciuto e che tu l'abbia trovato interessante, in questo caso lascia un like e se non sei iscritto iscriviti al canale, a te non costa nulla, ma per me è un aiuto per continuare e migliorare i contenuti del canale. Grazie Grazie